Ciao ragazze bentornati al mio canale, oggi un nuovo video, questo è un video face of day ed è una con la mega collaborazione ideata da Fedi Kitti dove praticamente ci richiedeva di fare un make up come ci faremo a noi e poi di descrivervelo allora siccome questa sarà la mega collaborazione con tantissime 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 youtubers canali grandi e canali piccoli io vi lascio sotto nell'info box il link al canale di Fedi Kitti e ai vari video dove spiegava come funziona questa collaborazione e se verrà fatto come aveva previsto di fare lei in aiuto a un'altra ragazza cioè di creare praticamente una pagina dove mettere tutti i video di tutte le ragazze che collaborano io vi lascio anche sotto nell'info box questo link qua allora questo come appunto vi ho detto è un video face of day allora fa molto caldo fuori, sono quasi 40 gradi, very hot quindi non è che faccio trucchi molto molto pesanti ma è un trucco abbastanza leggero e vi spiego un po' come l'ho realizzato allora come prima cosa ho messo la base viso e ho utilizzato questa che è l'Olebot Matte di Essence questa mi piace molto perché è oil control e aiuta a tenere il viso mattificato visto che fa molto caldo e visto anche che si suda se non mettiamo sotto una base viso diciamo appunto mattificante il viso anche a chi non ha la pelle che si lucida si luciderà appunto proprio per il gran caldo come prodotto per fare la mia base viso ho utilizzato la BB cream io sto utilizzando questa in questo preciso momento che è la BB cream della Balea che ho acquistato alla profumeria Diem a Praga ed è una BB cream con inci veramente buono ha una profumazione di papaya stupenda infatti come vedete anche qua c'è la profumazione alla papaya e devo dire che ha una coprenza medio-bassa cioè se potete vedere non è che ha una coprenza proprio che fa l'effetto maschera però mi piace molto è molto leggera, io la sto utilizzando in questa settimana che fa veramente veramente caldo e mi piace molto allora come sovrabbase viso sono andata a utilizzare una cipria colorata e questa è la Mosaic Compact Powder di Essence che è questa qua e io ho la colorazione 01 Stankissed Beauty allora io utilizzo questa qua perché ve la faccio vedere praticamente swatchata andando a unire i colori viene un pochino colorata e quindi visto che la copertura della BB cream non è altissima ho pensato appunto di andare a unificare il viso con questa crema colorata in modo da creare un pochino più di copertura per finire il tutto sono andata a mattificare nuovamente il tutto con la cipria compatta di Essence e questa è una cipria praticamente bianca che una volta praticamente swatchata si fa bianca ma poi stesa sulla pelle non si vede niente quindi questa è come ho creato la mia base viso passando agli occhi allora ho accantonato un attimino il primer occhi che utilizzavo e sto andando a utilizzare è questo qua di Avon che è appunto l'eye base di Avon a me piace veramente tanto allora uno perché essendo beige va ad uniformare il eccolo va ad uniformare il colorito della palpebra due perché ha una tenuta maggiore rispetto a tutti gli altri primer che ho provato e quindi appunto con il caldo magari si evita che si sciolga ancora maggiormente di più il viso come base sopra la base viso ho utilizzato questo matisone qua di H&M questo è nella colorazione pink ed è come potete vedere ve lo swatch sulla mano eccolo qua è molto molto chiaro ma molto molto luminoso io lo vado a stendere sia sulla palpebra mobile che lo vado a intensificare nella piega dell'occhio per poi diciamo andarla a sfumare fino a sotto l'arcata sopraccigliare come ombretto ho utilizzato questo colore qua che è di questa marca che si chiama Moda ed è questo colore qua questo viola qua stupendo ed è il numero 315 ve lo faccio vedere swatchato ha una pigmentazione veramente stupenda cioè guardate qua un pochino polveroso ma anche perché diciamo contiene glitter e poi adesso devo le mani bagnate quindi insomma ho raccattato un po' di tutto però è veramente molto 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 bello e questo sono andata a metterlo con un pennello a penna solamente qua praticamente nell'angolo interno andandola a sfumare nella piega dell'occhio una volta che l'ho sfumato sono andata ad applicare questo ombretto qua della It Style che è questo oro bellissimo ed è il colore numero 20 eccolo qua e ve lo faccio vedere anche questo swatchato è veramente veramente bello cioè questo è veramente oro allo stato puro molto molto bello e sono andata ad applicarlo qua una volta che l'ho applicato quello e lo sono andata a sfumare il tutto con un pennello da sfumatura e poi ho passato questo ombretto qua della Yes Love ed è il numero 01 e si chiama è un ombretto cotto e guardate quanto è bello con tutte queste sfumature di colori e ve lo faccio vedere swatchato e guardate è veramente molto 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 luminoso e praticamente eccolo qua lo vedete ecco bene e praticamente sono andata a unificare il tutto andandola appassata anche sotto l'arca a sopraccigliare per illuminare l'occhio poi come mascara ho utilizzato questo mascara che è l'Aerovolume di Avon che è un classico mascara nero con lo scovolino eccolo qua uno scovolino veramente classico però diciamo che come mascara mi piace abbastanza è un pochino non è tanto scrivente non è quel nero più effetto boh mattificato cioè bello pigmentato però è molto molto bello cioè guardate che bell'effetto che fa sulle sopracciglia poi sotto l'occhio ho utilizzato diciamo questa matita qua che è la classica matita nera in gel della Essence e eccola qua molto molto bella molto morbida ottima scrivenza all'interno dell'occhio poi per quanto riguarda diciamo la finisora del make up allora no scusatemi le sopracciglia ok ho utilizzato la mia classica matita di H&M nella colorazione light che come vedete è piccina 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 sta per infinire e poi sono andata a fissare il tutto con il mascara trasparente di Essence e devo essere sincera questa combo io la strastrappavo per diciamo andare a terminare il viso allora sono andata a utilizzare allora come diciamo illuminante terra io la chiamo effetto lasciato dal sole se mi seguite da un po' sapete cosa intendo se non mi seguite ve lo spiego praticamente con un pennello grande facendo questo movimento dalla fronte fino a qua vado a stendere la la mia terra senza però appunto andare ad intensificare troppo perché non mi piace tantissimo sono andata a utilizzare questa qua di Penny Sage che è nella colorazione touch d'or questa è una terra illuminante è una cifra scusatemi illuminante con delle canzianze d'oro cioè guardate bellissime cioè una volta che si dà sulla mano non si vede tanto dà un effetto luminoso favoloso poi non ho fatto contouring se non che andare ad intensificare un pochino questa terra andandola a prendere diciamo nella parte dove c'è meno oro e andandola con un pennellino a sfumare proprio appunto sull'osso del viso come blush sono andato invece poi ad applicare questo che non ve lo apro perché è quasi finito ed è il blush della Color Explosion di Kiko nella colorazione 003 Active Move è quasi finito quindi non ve lo apro perché sennò mi cascano tutti i pezzettini in terra mi piaceva tantissimo mi dispiace solamente che sia finito e mi dispiace che fosse un'edizione limitata di Kiko e che quindi non riuscirò più non riusciremo più a trovarlo ho sfumato poi il tutto con un con un kabuki bello morbido in modo da unificare il blush e il piccolo contouring che ho fatto e poi sono andata ad applicare l'illuminante e come illuminante sono andata ad applicare questo qua di Ettenz dell'edizione limitata Bloom Me Up che è molto molto bello eccolo qua ed è questo qua sul dito eccolo e ve lo faccio vedere sulla mano è molto molto bello quindi praticamente una volta sfumato vedete che lascia una luminosità incredibile e questo sono andata ad applicarlo sia qua sia un pochettino all'interno dell'ottio per finire sulle labbra sono andata ad utilizzare questo matitone qua di H&M che è il Lip Pen nella colorazione Passionate Pink ed è questo qua che mi vedete appunto sulle labbra molto molto bello per finire siccome appunto è caldo il trucco si disfa sono andata a spruzzare il mio Makeup Fix e questo qua è quello di Avon e ho appunto fissato tutto in modo che spero non coli perché oggi è veramente caldo 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 bene ragazzi allora questo è il mio Face of the Day vi lascio magari durante il video troverete magari delle foto degli ingrandimenti per farvi vedere appunto la realizzazione del make up io mando un bacione enorme a Fede di Kitty mando anche un bacione enorme a tutte le ragazze che collaborano in questa cosa ci sono ragazze che già conosco da un po' e che quindi già seguo ci sono ragazze che non seguo e che ho iniziato a seguire appunto grazie alla collaborazione quindi grazie grazie veramente a tutte ringrazio tutti i miei iscritti perché stanno crescendo ogni giorno di più siamo quasi a 400 e sono veramente 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 felice quindi un bacione enorme a tutte ragazze e al prossimo video ciao ciao